Prosegue l'operazione gruppo Unipol Starlink per assicurare la connettività post alluvione in Emilia-Romagna. Mentre SpaceX ha orientato i suoi satelliti concentrandoli in modo da dare priorità alla regione emiliana, i terminali acquistati dal gruppo Unipol sono stati distribuiti secondo le indicazioni della protezione civile e della regione Emilia-Romagna. Sono già in funzione a Bologna, nella sede della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile, che ha il compito di assicurare il funzionamento del sistema di allertamento regionale in base ai dati della rete idropluviometrica e di attivare così le funzioni di supporto alla gestione dell'emergenza. L'operatività della sede in emergenza è strategica e la connettività di base è essenziale. È fondamentale avere una connettività continuativa perché se no inficerebbe anche il nostro sistema di allertamento. La nostra struttura è strategica anche per questa attività poi di allertamento al territorio. In gestione dell'emergenza abbiamo avuto questa possibilità da parte di Unipol di distribuire gli apparati Starlink sul territorio che era stato colpito dall'emergenza. Quindi è stata fatta una prima ricognizione delle necessità sul territorio, chiamando proprio singolarmente ogni comune e i sindaci. Dopodiché sono stati distribuiti sul territorio a quelle strutture, quindi potevano essere i comuni, i cocchi, i centri perotivi comunali o le scuole che necessitavano di riconnettere i propri servizi. A Bondeno, provincia di Ferrara, grazie al ripristino della connettività internet è stato rimesso in moto il fabbricato di governo delle manovre idrauliche che consentono di mettere in comunicazione o isolare il cavo napoleonico dal fiume Po. Il cavo napoleonico è un'opera strategica per la salvaguardia idraulica della bassa pianura del fiume Reno. È lo scolmatore delle piene del fiume Reno. Durante l'ultima piena ha consentito di deviare in Po quasi 40 milioni di metri cubi di acque del Reno. Questo luogo, questa opera idraulica, ha un grosso problema di connettività. Questo problema di connettività che permette agli operatori di essere connessi con le applicazioni che utilizziamo nella gestione degli eventi di piena e consente di fare anche altro, per esempio trasmettere le immagini delle tre camere oppure, pensata in futuro, di far funzionare da remoto le opere idrauliche. Grazie all'impianto che è stato installato, quindi l'impianto di Starlink, sarà possibile costruire quel primo tassello che permetterà primariamente di gestire meglio gli eventi di piena da parte degli operatori. Secondariamente di cominciare a costruire i presupposti per far funzionare con sistemi di telecontrollo anche le opere idrauliche. Infine a Cesena è ripartita l'attività della scuola di moda che offre formazione a una settantina di ragazzi dai 17 ai 24 anni che provengono da tutto il mondo e vogliono intraprendere una carriera nel settore tessile. L'attività didattica purtroppo è stata sospesa per quattro settimane. Non è stato possibile ripristinare totalmente le aule tutte perché appunto la difficoltà, il disagio era talmente tanto che ci vorrà del tempo, ma siamo riusciti a ristabilire due aule che ci permettono almeno di aver potuto riprendere il nostro lavoro e cioè la parte che anche i ragazzi che devono dare l'esame a giugno del 2023 non volevamo farglielo perdere. Quindi siamo riusciti a ripristinare le due aule funzionanti e attualmente stiamo facendo lezione in queste due aule.